20 punti per uscire dal buio è questo lo slogan del programma che accompagnerà la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle a Barletta. Una presentazione ufficiale per raccontare alla città come è nata la candidatura a sindaco di Patrizia Corvasci, avvocato barlettano, che guiderà il movimento di Beppe Grillo alle prossime elezioni amministrative. Tra i vari attivisti che si sono resi disponibili l'assemblea attraverso una regolare votazione ha designato me quale portavoce per queste amministrative che si approssimano. Il Movimento 5 Stelle è stato a Barletta il primo partito alla Camera dei Deputati con il 27,33% dei consensi, numeri inaspettati alla vigilia delle politiche di febbraio che dimostrano come i grillini siano in forte ascesa nella città della disfida. Alla base del programma presentato con 20 punti chiave ci sono le politiche ambientali da innovare, il nuovo piano urbanistico da redigere e il rilancio del turismo. L'importante non è l'esito elettorale da un punto di vista del consenso. Il Movimento 5 Stelle chiede partecipazione e il messaggio è quello di risvegliare un senso civico in tutti i cittadini. Noi riteniamo che Barletta non sia dotata di un piano di crescita sostenibile, quindi il modello di società a livello locale ma anche nazionale che noi perseguiamo è appunto quello di uno sviluppo sostenibile. Promuovere quello che è l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, quali il fotovoltaico. Noi siamo una città baciata dal sole quindi assolutamente potrebbe attuarsi, sarebbe attuabile tutto ciò. Un'amministrazione virtuosa non può assolutamente trascurare quelle che sono le tematiche del sociale e quindi magari attraverso una razionalizzazione delle spese della pubblica amministrazione costituire dei fondi destinati ad implementare ma anche a migliorare quelli che sono i servizi sociali sul territorio. Barletta è l'unico capoluogo di provincia pugliese dove si voterà per le amministrative per questo non è escluso che il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo possa far tappa per una pubblica manifestazione così come si aspettano i militanti del Movimento 5 Stelle a Barletta. Lo staff che stabilisce il tour sia nelle date che nei luoghi, pertanto noi ci crediamo e quindi auspichiamo questo arrivo.